Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Negli ultimi giorni si sono diffuse numerose indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne. Tra le novità più attese c'è il ritorno di Francesco Turco nel parterover, annunciato da Amedeo Venza. Inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato la possibile presenza di Ida Platano, e ha rivelato le date delle prime registrazioni dello show condotto da Maria De Filippi, previste tra pochi giorni. Francesco Turco, uno dei volti più amati del parterover, è pronto a fare il suo ritorno. Il simpatico ex cavaliere pugliese, noto per la sua parlantina vivace e il carattere acceso, ha fatto divertire molti spettatori. Dopo quattro anni di assenza, Amedeo Venza ha confermato il suo ritorno tramite un video su Instagram, ricordando anche un celebre errore linguistico di Turco, quando confuse «singolo» con «single». La notizia ha subito fatto il giro del web, creando grande aspettativa tra i fan. Anche Ida Platano potrebbe essere pronta a rimettersi in gioco. Nella scorsa edizione la parrucchiera siciliana aveva partecipato come tronista, senza però trovare l'amore. Lorenzo Pugnaloni ha lasciato intendere che Ida potrebbe tornare nello show per decidere se concedersi un'altra possibilità. L'attesa è palpabile, e i fan sono curiosi di vedere se Ida troverà finalmente l'uomo giusto. La prossima stagione di Uomini e Donne si preannuncia ricca di emozioni. Oltre ai ritorni di Francesco Turco e Ida Platano, c'è grande attesa per vedere le coppie di Temptation Island confrontarsi in studio. Inoltre i fan sono impazienti di scoprire se Gemma Galgani ha trovato l'amore durante l'estate, e se la sua conoscenza con Pietro è proseguita. L'ultima edizione ha visto la formazione di diverse coppie ancora insieme, come Roberta e Alessandro, Asma e Cristiano per il parterover, e Gaia e Daniele, Brando e Raffaella, Cristian e Valentina per il trono classico. Tuttavia, non tutte le storie d'amore hanno avuto un lieto fine, come quelle tra Emanuela e Marco Antonio, e Maura e Gianluca. Il panorama sentimentale di Uomini e Donne è in continua evoluzione, e ogni stagione porta con sé nuove sorprese e colpi di scena. Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserverà la prossima edizione. Che ne pensate? Vi ricordate di Francesco Turco? Vi piacerebbe rivederlo nel parterre di Uomini e Donne? A voi i commenti! Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 Grazie